Come accedere all'applicazione mobile di Sparkasse On tramite la chiamata di autenticazione on-call. Se non l'hai ancora fatto, scarica la nuova app di Sparkasse On dallo store del tuo smartphone. Apri l'app e inserisci il tuo codice utente, la password e accedi. Se ti trovi all'estero, fai clic su Sono all'estero per ricevere la chiamata di autenticazione. Se ti trovi in Italia, fai clic su Sono in Italia. Fai clic sul numero di telefono per effettuare la chiamata. Attendi l'inserimento automatico del codice a quattro cifre. Se hai uno smartphone che supporta la scansione dell'impronta digitale o il riconoscimento facciale, attivali per accedere più velocemente. Clicca su Conferma e poi OK. Adesso puoi utilizzare la tua app On. Come autorizzare un'operazione dall'applicazione mobile di Sparkasse On tramite la chiamata di autenticazione on-call. Inserisci su On i dati dell'operazione da autorizzare, in questo esempio un bonifico, e fai clic su Conferma. Se ti trovi all'estero, fai clic su Sono all'estero per ricevere la chiamata di autenticazione. Se ti trovi in Italia, fai clic su Sono in Italia. Fai clic sul numero di telefono per effettuare la chiamata. Attendi l'inserimento automatico del codice a quattro cifre. Ascolta il riassunto vocale dell'operazione e conferma con il secondo codice di sei cifre. Se hai uno smartphone iOS, ovvero un iPhone, premi sul codice a sei cifre a sinistra del simbolo rosso della cornetta. Se hai uno smartphone con sistema operativo Android, conferma con Sì. L'ordine è stato inoltrato con successo. Riceverai una notifica tramite e-mail.